I carabinieri di Massafra hanno scoperto in un box sito alla periferia di Motto la circa 200 kg di materiale esplodente, diviso in batterie da 16 kg l'una, e hanno arrestato un commerciante quarantenne, le cui iniziali sono TP, che ha poi ottenuto i domiciliari perché è incensurato. Si tratta di fuochi d'artificio di quarta e quinta categoria, dunque ad alto potenziale, contenenti in tutto 80 kg di polvere nera. Il materiale sequestrato era completamente sprovvisto dalla documentazione specifica prevista dalla legge. La custodia di questo materiale esplodente dall'altissimo potenziale avrebbe potuto arrecare gravissimi danni a persone e cose, dato che il box si trova in una zona residenziale di Motto la. Peraltro nel box sono stati rinvenuti dei mortai e due rotoli di miccia ad alta combustione da 20 metri l'una, il che fa pensare che l'uomo si dedicasse, oltre che alla commercializzazione, anche al confezionamento dei botti. La maggior parte del materiale sequestrato è di fabbricazione cinese, mentre altro materiale esplodente è sprovvisto di qualsivoglia classificazione. Oggi stesso i carabinieri faranno brillare il materiale sequestrato in una cava. è una cava.